13, Niccondocca, Tarcisio Greco, 13, Ince del Nord, Biagio Bevilacqua, 14, L'Otrecht Drà, Antonio, Finioni. Stacco della macchina con Outsider che si metta a partenza a volante e assume il comando, l'errore di L'Otrecht Drà. E finisce squalificato, sbaglianti, Orioneville. Spira Melania dopo 200 metri in 13,6 sulla condiscendente Outsider. Poi in terza posizione, Nettumoral, lungo la corda per linea interna e segue anche Ontario Regal a largo, Lampodevo. 28,1, fiera nei primi 400 metri con Melania e sempre al comando nei confronti di Outsider, Nettumoral, poi Ontario Regal. Risale a largo, Nixon, doppio spedinato, Dotton, Jet in terza corsia, avanza a luce del Nord, ma i primi 600 metri vengono completati in 42,8. Non è già l'andatura, la saura, l'imbocco della seconda curva, metti assieme 800 metri e l'ordine del 5,8 e 2. Outsider che la fila, Nettumoral che si affaccia per non farsi coprire la Nixon, Doc, poi Ontario Regal, terzo e corda, me è richiesto, quindi 8,7 a contatto, Outsider controllo, Nettumoral, prendia con il nostro chilometro e 1,13 e 2, con Outsider e Nettumoral che vanno ad incalzare Medale SF, che sembra aver speso gran parte di questo che va a spendere, Outsider che insegue, così come Nixon e Doc, 1200 contatti, 1,27 e 4, 5 con un passale 14,1, Outsider che sopraventa l'aria, che sopraventa cerca la rivolta interna, poi Nettumoral, ottoneggetta Nixon Doc, Nettumoral che si avvicina, a 200 la confusione, Outsider che è passato, inseguito da Nettumoral che va su Melania, poi Nixon Doc che sta in gamba, a metà vittura, arriva Nixon Doc, sull'estruo di Outsider, il palo si avvicina, Nixon Doc con la straguardo a Pariglia, Outsider, tra i minuti,